Lady Film e Istituto Luce presentano C'è nessuno? Brenda Bletting, insuperabile interprete di L'Erba di Grace Alfred Molina, indimenticabile protagonista di Cioccolato e un inedito Christopher Walken Mi chiedevo, la defunta aveva qualche passione? Star Trek Chiesa o cappella? Chiesa, senza dubbio, la mamma era per la chiesa Hugh, tua madre non entrava in chiesa da 25 anni Oh mio Dio Hai scelto il vestito per la mamma? Non ancora, sono del fioraio Ascolta, vogliamo i fiori sparsi sulla bara o una corona al lato? Hugh? Betty, ho avuto un'idea grandiosa, ti ucciderò Stai scherzando? Tutti straordinari interpreti di una celestiale commedia che vi farà morire dal ridere Para con vista Che diavolo sta succedendo? È incredibile Giulia Manfred Edda, è solo una toccatina Non avrei mai voluto andare con tuo marito Ma lui è un animale, Betty Un animale E se avesse davvero qualche trucco del mestiere? Un fluido speciale che arresta il gonfiore e lo scoloramento? Non avete capito? Ho capito So come vanno queste cose Frank, che posso spiegarti? Non è come pensate! Brenda Blattin Alfred Molina Resto per volte Para con vista Mi prima300 Lo scικό Lo scopo Ami Grazie a tutti.